Procedono a 360 gradi le indagini dei carabinieri del comando provinciale di Bari finalizzate a scoprire gli autori dell'omicidio del commerciante di 39 anni Francesco Di Leo, avvenuto domenica 3 luglio a Barletta, in piazza Marina, nei locali del mercato ittico. Non vi sono dubbi sulla condotta premeditata del killer che si è presentato all'appuntamento con la morte munito anche di arma di riserva, così da essere sicuro di non mancare l'obiettivo. A ghiaccianti i particolari dell'azione criminale che vedono l'intervento di almeno due uomini a bordo di una Fiat Punto di Colore Grigio di cui uno ha la guida e l'altro completamente travisato che si dirige prima verso una rivendita di pesce e poi dopo aver compreso di aver sbagliato locale verso la rivendita di mitili dove armato di fucile che si inceppa tira fuori una pistola semi-automatica dall'auto e spara all'impazzata all'interno dell'esercizio commerciale. Le immagini sono state diffuse dai militari dell'arma. Le immagini sono state diffuse dai militari dell'esercizio commerciale.